Allo studio Corvino Multari, in questo bellissimo contesto molto naturale ecologico, incontriamo Federico Lundari, amministratore delegato Hauser Italia, distributore del materiale Staron by Samsung per l'Italia. Buongiorno, abbiamo realizzato un nuovo concept per l'arredamento urbano utilizzando il nostro solid surface, il nostro prodotto, che offre caratteristiche altamente innovative e tecnologiche. Per cui abbiamo creduto con gli architetti Corvino e Multari di realizzare questo nuovo progetto per sperimentare le caratteristiche del prodotto all'aria aperta, quindi in un ambiente aperto. Samsung innanzitutto sono tre anni che sta studiando a fondo nuovi aspetti del materiale, quindi realizzando nuove versioni che abbiano caratteristiche un po' diverse dal materiale nato per primo. Per cui ha lavorato sulla stabilità dimensionale delle lastre, se riscaldate, per l'uso indoor, quindi negli ambiti cucina e bagno. Ha realizzato una versione resistente ai raggi UVB e qui siamo pionieri, abbiamo lavorato per primi in questo ambito con dei buoni risultati e poi abbiamo lavorato sulla resistenza al fuoco. Per determinate certificazioni necessarie nell'ambito navale e comune abbiamo dovuto realizzare questa versione che resiste in modo particolare al fuoco e quindi diciamo che è un po' l'input primario per la Samsung, quella di realizzare versioni che siano diverse da quelle utilizzate normalmente nell'ambito domestico. In questo momento di ecocompatibilità, ecologicità, dove tutto deve essere naturale, questo materiale capita proprio ad hoc? Sì, anche in questo senso abbiamo lavorato fortemente. Abbiamo due versioni, una che all'interno ha un'altissima percentuale di materiale riciclato e poi è comunque un materiale ecologico. I trasformatori che lavorano il materiale lo possono considerare il fiuto solido urbano, per cui non ha smaltimento speciale. E malgrado la crisi del mercato viene recepito bene questo materiale? Come viene utilizzato? Soprattutto direi in momenti di crisi i materiali che offrono qualcosa di nuovo, qualcosa di un pochettino innovativo, tecnologicamente innovativo non solo visivamente o dal punto di vista architettonico e di design, trovano applicabilità in diversi settori.